Finisce Gianna Mappello, vince la Gianna per due reti a uno, siamo con Cesare Bell, il mister della Gianna. Allora Cesare, seconda vittoria consecutiva, cos'è cambiato qui a Rungorzola? Se è cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, bisogna che... il cambiamento d'eccellenza è sempre durissimo, lo vede anche il Mappello oggi che pure è una squadra che giocherà fino alla fine con la Serenio, si giocherà il titolo fino alla fine. E' durissimo per tutti, noi abbiamo fatto un sacco di pareggi, qualche sconfitta così, magari anche a Serenio, meritata o non meritata. Vuol dire che mi sembra che quest'anno stiamo andando meglio rispetto all'anno scorso, c'è più consapevolezza, tutto quanto. Adesso in queste due partite stanno trasformando i pareggi in vittorie, giocando allo stesso modo, non è che prima giocassimo male o così via. Giochiamo, siamo tosti, siamo in campo abbastanza bene, i ragazzi ci credono, probabilmente viene un po' più di consapevolezza, di autostima e poi magari il calcio è anche così, qualche volta è qualche episodio a favore, qualche volta è qualche episodio che magari è giocato anche meglio, per esempio a Sondrio abbiamo fatto solo pari. Queste vittorie sono arrivate proprio nel momento in cui durante la campagna acquisti in corso magari avete svoltito un po' la rosa? Sì, ma io ci terrei a chiarire questo fatto qua. Allora i ragazzi che sono andati via da qua, sono 4 o 5 ragazzi e sono andati solo per giocare. Qua era una rosa che sembra le solite frasi ma è così, sono andati via da qua e piangevano loro e anche quelli che sono rimasti erano… quindi sono andati via esclusivamente per giocare. In qualche momento sembra che gli si faccia del male a dei ragazzi che vanno da un'altra parte a giocare, ma questi avendo le richieste si è deciso come società di dare più spazio ai giovani nostri che sono dietro l'under e lasciando andare a giocare i vari comotti, sottocorno, forbiti e così via. Chiaramente uno può pensare di avere una rosa ricicata ma gli 11 di oggi sono una buona squadra. Chiaramente daremo più spazio ai nostri giovani, solo per quello. Gara di oggi vinta grazie a cosa secondo te? Alla voglia di vincere insomma, siamo stati in campo abbastanza bene, credo che il primo tempo sia stato un po' alla pari, il secondo tempo secondo me siamo partiti meglio noi e secondo me abbiamo meritato anche di passare in vantaggio. Dopodiché alla fine potrebbe succedere anche di tutto, ma insomma grandissimi pericoli, non abbiamo mai corsi insomma. Questa vittoria cambia qualcosa negli obiettivi della Gianna o no? Sicuramente no, da morale si sta un po' meglio perché insomma giocando in eccellenza ogni domenica si va a casa è sempre dura insomma. Da morale basta, per adesso così non cambia niente, l'obiettivo della Gianna è sempre quello di rimanere in categoria, questo è il mio pensiero.